la verità. I Lin Kuei erano i veri responsabili della morte delle famiglie di Sub-Zero e di Scorpion. Infuriato, Sub-Zero propose a Scorpion di unire le forze per consumare la vendetta. Forti dei poteri del gelo e del fuoco, divennero una furia vendicatrice inarrestabile e fecero piazza pulita dei loro nemici. Una volta fatta giustizia, Sub-Zero e Scorpion scompargono per divenire leggenda. Ancora oggi riappaiono dal nulla solo per vendicare gli innocenti. Le forze del male non potranno mai fermare. Grazie.